E' più che storia ormai, nove vittorie consecutive, io credo che tu non avresti neanche lontanamente potuto sognare una roba del genere, Presidente. No, no, ci cottavamo, avevamo messo un premio, nove vittorie all'inizio della stagione. Hai messo la mascherina perché stai mentendo spudonatamente. Scherzo, è una cosa straordinaria, è una cosa che dedichiamo alla città, a tutti gli sportivi, a tutta la gente che in questo momento magari non ha molto per ridere e per gioire e noi lo regaliamo. Ho letto un'intervista bellissima dei Bundabash dove dicevano noi siamo orgogliosi che oggi si parla di Brindisi, di Mesagne e del nostro territorio e si fa l'esempio del nostro gruppo e noi fa piacere che nello sport si parli di Brindisi e si parli di Brindisi a livelli altissimi come in questo momento dove c'è una squadra che è partita col solito obiettivo di una salvezza da raggiungere nel più breve tempo possibile ora è seconda in classifica, un distacco importante sulle terze e va a fare qualcosa di incredibile andiamo a Milano a giocarci il primo posto. Se qualcuno ce l'avesse detto dieci anni fa quando è iniziata questa avventura l'avremmo preso per un ubriacone. Invece c'è, è vero, è storia e godiamocela, godiamocela sino all'ultimo secondo non so quante altre volte ci potrà capitare di andare a Milano a giocarci il primo posto. Con Venezia e Virtus che perdono in casa, una giornata incredibile, a beneficio di Brindisi che vede tutti con grande distacco Sì, però è chiaro che non dobbiamo montarci la testa, noi sappiamo il nostro valore, conosciamo quelli che possono essere i nostri limiti che stiamo anche eliminando e con molta umiltà come sempre dico e predico da qualche mese Dobbiamo continuare a vederci in palestra, a giocare con la stessa attenzione, professionalità e intensità perché se noi mettiamo questo in campo abbiamo dimostrato che ce la giochiamo con tutti Nei momenti in cui entriamo, come magari è successo anche oggi, quasi un po' certi di portarla a casa in ogni caso la partita nel primo quarto abbiamo sofferto tanto, anche nel secondo, perché chiaramente le squadre vengono qui oggi per battere Brindisi Grazie